A Magliano Sabina si punta sempre sulla sostenibilità e sul riciclo. In questo caso parliamo di plastica. Se svolto a tal proposito un importante incontro tra il Consorzio Nazionale per il Riciclaggio degli Imballaggi in Plastica e gli studenti della Scuola Media e del Liceo Scientifico di Magliano Sabina. Il concetto veicolato è quello che vede un rifiuto trasformarsi in una risorsa. Come ha spiegato Roberto Stentella, amministratore unico AMS, il conferimento diretto con la piattaforma di Gallese consente un buon ritorno economico, ma si vuole migliorare e per questo ci vuole educazione e formazione, partendo proprio dai giovani. Un corretto riciclo della plastica andrà a vantaggio di tutta la comunità che potrà in tal modo usufruire del ritorno economico dato dal conferimento diretto con la piattaforma di Gallese. Grazie a tutti.